Una giornata per i diritti dei bambini, quali sono i diritti dei bambini per creare una città a loro misura? Sono sicuramente il diritto alla salute, il diritto al gioco, il diritto alla cultura e il diritto a crescere da bambino e quindi è quello che noi vogliamo far venire fuori con questo evento, i bambini che chiedono il rispetto dei loro diritti agli adulti. Foggia come può migliorare una proposta anche concreta per dare voce, dare corpo ai sogni dei bambini? Prima di tutto ascoltandoli, è la prima volta che si parla dei diritti dei bambini dal punto di vista dei bambini, saranno loro stessi a parlare, ad essere difesi e interpretati e gli adulti ad essere posti su un scherzoso banco degli imputati. Tutto parte dall'ascolto, il problema di tante bambine, di tanti bambini, di tante ragazze, di tanti ragazzi è quello di non essere più ascoltati.